«Voglio dirti una cosa», dice Patrizio a Mike una volta tornati all'ingresso, «Non per scoraggiarti, al contrario, per darti un'opportunità in più. Capisco che vogliate usare le maniere forti, forse farei lo stesso al posto vostro, ma potreste scontrarvi con qualcosa di più grosso di voi. Potrebbe trattarsi di un farabutto, forse più d'uno, e sappiamo bene che il rischio è molto alto. O potreste finire per rimanere un passo dietro di loro, perdereste tempo, e qui il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo. «Che stai cercando di dirmi?» chiede Mike. «Quello che voglio dire è che esiste un altro metodo per ottenere le informazioni che ci servono». «Di che stai parlando?» fa Sandro. «Voi sapete che io ho scritto in passato tantissimo, cinema, televisione, e mi ha giovato molto ricordarmi che tutte le storie sono vere». «Tutte le storie sono vere?» dice Mike. «È lo slogan portante di Gli Impeti dell'Anima». «Sì, ma tu non sai quanto è giusto quello che dice». «Ci stai facendo montare l'ansia», dice Sandro. «Niente ansia, non ce n'è bisogno». «Ascoltami bene, Mike. Tutte le storie sono vere, perché tutto è già successo. Noi viviamo qui e ora perché la nostra coscienza funziona così, ma la nostra vita, tutto quello che succede, l'intera storia dell'universo, è come un film già girato. Quello che ci viene in mente, che immaginiamo, quello che pensiamo sia il frutto della nostra fantasia, è soltanto il ricordo di qualcosa che è già successo. Noi lo vediamo confusamente, anticipando il futuro, solo perché il futuro esiste già. E quelli come noi, cosiddetti creativi, non sono altro che quelli che riescono a spingere lo sguardo oltre il proprio tempo. Niente di più». «Facevo bene a preoccuparmi», interviene Sandro. «Questa da dove l'hai presa?» «Potevo anche non dire niente, ti pare?» Replica a Patrizio. «La stampa ve l'ho data. Le riprese le avete viste. La mia parte l'ho già fatta. Se vi dico questo è perché ne ho fatto esperienza diretta. Spesso, quando scrivevo, soprattutto quando mi trovavo a un punto morto e provavo a immaginare, vedevo le cose così come sarebbero andate. Pensavo che fosse la mia fantasia, ma quelle immagini arrivavano a me nello stesso identico modo in cui le avrei viste con i miei occhi al momento di effettuare le riprese. Non le stavo inventando, le stavo recuperando. Potete non crederci, ma moltissime volte, quando ne ho avuto bisogno, il metodo ha funzionato». «E che dovrei fare io con questo metodo?» dice Mike. «Prova a concentrarti. Prova a scrivere. Prova a immaginare quello che può essere successo, quello che sta succedendo. Prova a vedere chi è o chi sono, dove si trovano, cosa stanno facendo. Vedrai tutto affiorare alla tua mente. Ti sembreranno pensieri nuovi, ma in realtà sono vecchi. È tutto già successo. E questi sono solo ricordi. Fidati, mi ringrazierai». Dopo i saluti, tornano all'auto. «Mike fa «Vuoi che guidi io?» «Perché non ce n'è bisogno. La strada per l'agenzia la conosco. Che ne pensi di quello che ha detto Patrizio?» «Tutte le storie sono vere?» dice Sandro. «Eh, penso che se la gente si tenesse più occupata. Sentiremmo meno chiacchiere a vanvera».